Quattro indagati di cui due dipendenti del comune di Gubbio perquisizione in proprietà privata per un'inchiesta che riguarda una costruenda area wellness nella frazione di Casamorcia. Il decreto di perquisizione emesso dalla procura di Perugia ed eseguito dai carabinieri del nucleo operativo ecologico si inserisce nell'ambito di un'indagine per presunti reati commessi nell'area in un'ex cava sottoposta a vincoli che si trova lungo il vecchio tracciato della Piandassino. Al proprietario del terreno e dell'immobile in costruzione, al direttore dei lavori e a due tecnici del comune di Gubbio vengono contestati reati di inquinamento ambientale, impedimento del controllo, gestione illecita di rifiuti speciali, realizzazione di opere edilizie in assenza del permesso a costruire, abuso d'ufficio, falsità ideologica, incertificati commessa da persona esercente servizio di pubblica utilità. Le indagini dei carabinieri sono partite ad aprile 2020 con il supporto del personale dell'ufficio risorse minerari della regione e dell'ARPA. L'ipotesi accusatoria sostiene che in quest'area sottoposta a vincoli, data la presenza di acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata, sarebbero stati esportati circa 16.500 metri cubi di terra e rocce con deterioramento territoriale e paesaggistico, testimoniato anche da fenomeni di disgregazione in superficie dell'ammasso terroso e con modalità che rendono estremamente complesso un intervento di riambientamento. Inoltre, al posto di una struttura in cemento armato, che era stata autorizzata con finalità di stabilizzazione di un versante del fronte di cava, sarebbe stata realizzata una costruzione comprendente un garage, tre bani ed un'ampia area benessere munita di piscina. Il tutto sarebbe avvenuto mediante permessa a costruire rilasciato in violazione delle norme di legge, abusivo secondo l'accusa, anche un pozzo ad uso domestico in una zona classificata di tutela assoluta. Al vaio anche l'ipotesi di illecita gestione dei rifiuti prodotti da parte della ditta esecutrice.